E se vi gustate il vostro tè, e ora suonerò per voi. E va bene, va bene, cinque minuti soli però. Oh bene, mettetevi comodi. Intanto vado a preparare il tè, mia madre potrebbe suonare qualcosa per te. Cosa? Sì, mia madre era una pianeta che è molto brava. Era il suo lavoro, ma lei non lo considerava tale. Una volta alla settimana, amava reunire gli amici per offrire loro una tazza di tè e per far ascoltare l'onora della sua niente. Vi prego, sicuramente mi farà riazionare. Prego, andiamo a fare lazione. Se riuscirete a capirla, cosa ne fa così. La rispettisola. E se non la riazze? Eh eh, no, aspetta. La faccia tutta via è meglio. Non me la metto la faccia tutta, mi spessino. Eh? Non ti ripresa. Eh, che vero. Tutto. Sì, è vero. Lo giuro. Lo giuro. Non dipendo. Lo giuro. Lo giuro.